Oggi vi racconto la storia di tre gatti che stanno cercando la loro casa da molto tempo. La prima è Africa, un'amicia dolcissima di due anni, abbandonata dopo aver partorito. Aveva la mastite, le mammelle piene di latte. Chissà che fine avevano fatto i suoi piccoli. Oltre a questa sofferenza si è aggiunto anche il dolore e la febbre a 41. Ha rischiato la vita. Ora Africa sta bene, è stata sterilizzata e testata con risultato FIV-FELV negativo. Poi la bellissima Bianca, anche lei abbandonata con i suoi due piccoli al seguito. Ha un anno e è giovanissima. I suoi gatti sono stati adottati insieme e ora lei è tutta sola. Ha un carattere bellissimo, molto dolce e coccolona. È già stata sterilizzata e anche lei testata per le principali malattie ferine con esito negativo. Per ultimo Teddy, questo meraviglioso orsacchiotto di quattro mesi. Tutti chiedono di lui e poi spariscono. È un bellissimo rosso tigrato, carattere giocoso e molto simpatico. Ama la compagnia e non vede l'ora di poter giocare con qualcuno. È già stato sverminato e a breve verrà vaccinato.